Messaggio di domenica 7 febbraio 2021 Bambini miei, sono felice di potervi parlare. Io vi guido in questo mondo di ostacoli, di tentazioni. Desidero essere il vostro punto di riferimento. Credeteci, credete al mio amore che è infinito per ognuno di voi. Molti avvertimenti vi sono stati donati e che non sono stati creduti, non sono stati messi in pratica. Il mondo sta pagando conseguenze dei suoi stessi errori. Io ho donato il terzo segreto di Fatima al mondo per rendervi consapevoli di ciò che sta accadendo e che accadrà ancora. Tutti i potenti che sono contro la legge di Dio Padre Onipotente cadranno. Nessuno potrà fermare i castigli che vi saranno su costoro. Il terzo segreto di Fatima, che parla della loro rovina, non è stato donato alla Chiesa che se ne è impadronita, nascondendo grandi verità che oggi avrebbero aiutato il mondo a capire ciò che sta accadendo. Il potere non servirà a annientare davanti ai castigli e alle catastrofi che si abbatteranno e alle guerre che ci saranno. Tutti i disamorati faranno guerra. Prendete in considerazione la preghiera, l'arma che vi fa da scudo. Presto, molto presto, io vi rivelerò grandi segreti di molti inganni che si sono fatti coinvolgendo anime innocenti. Figli miei, il mondo ha bisogno di purificazione. Non abbiate paura. Pregate. Il cielo non abbandonerà mai chi prega. Preparate la strada a mio figlio Gesù, come ancora oggi fa mio figlio Giovanni il Battista. Nulla cambierà su coloro che fanno la volontà di Dio Padre Onnipotente. Mio figlio Gesù è alle porte. Vi amo figli miei. Vi amo figli miei. Vi amo figli miei. Adesso io vi devo lasciare, ma la mia presenza rimarrà vicina ad ognuno di voi, che oggi mi avete pregato con il cuore. Continuate a pregare. Il cielo desidera ancora parlarvi. Vi benedico figli miei. E vi dono un bacio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Shalom. Pace figli miei. Fratelli e sorelle, sono io, Giovanni il Battista. Io sono colui che battezzò Gesù, il figlio di Dio. Io sono colui che gli preparò la strada per la sua venuta in questo mondo. Sono sceso con grandissima potenza, insieme e per volontà della Santissima Trinità. Oggi è un giorno molto speciale. Io desidero parlare al mondo intero. Desidero parlare al popolo di Dio, che desidera ascoltare la voce del Padre. Io parlo nel nome di Dio. La mia vita è di Dio. Ogni cosa è di Dio. Lui è creatore. Noi creature. L'umanità deve comprendere tutto ciò. Essere umile ed abbassarsi al cospetto del Creatore. Chi in questo mondo ha potere, ha smarrito la retta via, permettendo leggi che sono contrarie alla divinità, offendendo il cuore di Dio. Molte anime innocenti e devote stanno soffrendo a causa di questi abomini. Mi rivolgo a voi, anime pie. La Santissima Trinità vi ama e vi è sempre vicino e vi chiede di essere sempre forti. Abbiate sempre gli occhi puntati sulla legge santa. Solo così non verrete mai confusi da tutto quello che sta accadendo nel mondo. Nei secoli la parola di Dio è sempre stata chiara, semplice, pura, comprensibile. Ma negli ultimi tempi gli uomini che hanno voltato le spalle a Dio la vogliono rendere complicata, impercettibile. Dio Padre Onipotente è molto arrabbiato perché Lui ama, ama, ama il suo Creato. Lui vede tutto e non permetterà mai più che la sua parola venga infangata. La sua misericordia sta per terminare e chiunque avrà volutamente disobbedito renderà conto a Lui. L'amore, la pace, la verità, Dio l'ha donata ad ogni sua creatura. Nessuno può gestirla. Comprendete bene le mie parole perché poi sarà tardi. Vi amo immensamente e vi chiedo di non perdere mai la fede. Pregate, pregate con tutto il vostro cuore e Maria Vergine Santissima asciugherà ogni lacrima dai vostri occhi. Molto presto ci saranno grandi cambiamenti in tutto il mondo. Tenete duro il popolo di Dio. Mettete sempre in pratica gli insegnamenti di Maria Vergine Santissima. Lei vi guida da mio fratello Gesù che è la vostra salvezza. Non temete. Stanno per arrivare grandi conferme. Fratello e sorella, abbiate sempre cura della vostra anima con preghiere e sacrifici. Vi amo, vi amo, vi amo. Desidero sempre aiutarvi. Adesso io vi devo lasciare. Ma il mio spirito è con voi. Non temete mai e gridate la verità. Abbiate nel vostro cuore il temore di Dio. Questo è un grande dono che non vi farà mai sbagliare la strada. Adesso vi benedico, fratelle e sorelle, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.